Maione Calce con il sinistro Prima conclusione del match E attento Paganucci Ecco il capitano Ci prova il laterale Mamma mia che angolo che stava per pescare Il numero 7 Ci prova Bella conclusione Euro goal di Krasniki Si prende Maione La responsabilità di questo calcio di punizione Attenzione al suo mancino Maione Tiro che esce di poco Ha contato i passi Pagliuca Non sguarda il portiere Pagliuca Tiro è potente Ma c'è l'intervento provvidenziale del portiere Già senti Alza la testa Pensa per un attimo alla conclusione Non le segue Si va invece da Pagliuca Ci prova di punta In due tempi Paganucci Marrocco è solo Marrocco è solo Alza la testa Cambio di gioco illuminante per Krasniki Che punta l'uomo Fino in fondo il fantasista Esterno della rete Illusione del gol Pagliuca Colpo di tacco Attenzione a Pagliuca Infermabile Pagliuca Vediamo cosa si inventa Ottima la sua giocata per Schiumarini Palone messo in mezzo Krasniki Si gira un fazzoletto Intervento provvidenziale di Paganucci Che salva il risultato Masella Con l'interno Damaglione Ha un po' di spazio Allarga il gioco bene Per Tomaselli Che punta l'uomo Tira a incrociare Termina sul fondo Ci prova con il destro E poi il capitano Ballone Embuca D'angolo L'ha messa dentro Menna Si torna sull'1-1 Si va in parità Mari Con l'esterno da Celiani Spalla la porta Ci mette il fisico Servito Mari Ballone esce Di un soffio Alla destra del portiere Tucci Ballone in avanti Per Maione Ottimo il suo stop Codì il petto Tre uomini su di lui Tucci Per pescare il gol Della serata Titoli di coda Al campo atletico 2000 Finisce 1-1 Tra San Basilio E la Pisana Cheva a me Cheva a me Sì Altra Grazie.